Grazie a tutti. Un videoclip diverso dai precedenti in quanto di animazione, molto raffinato sia per la storia raccontata sia per i disegni, che ben si esposa per la delicatezza del pezzo in generale. In un'ottica di un videoclip che deve essere funzionale alla musica, che deve rappresentare, è una buona scelta quella di voler fare un videoclip di animazione. And the winner is... Jacin Folon, Tatri Stess. It's in order. Maybe just you love others. I have the love others.